Amici di Football News My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare la top 11 dell'ottava giornata di Serie A del campionato 2018-2019. Cominciamo subito. Allora, oggi come modulo ho scelto il 3-5-2. Allora, in porta ho scelto di mettere Ospina del Napoli. Ospina che nella vittoria del Napoli contro il Sassuolo ha compiuto dei discreti interventi che hanno permesso ai partenopei di conservare prima l'1-0 e dopo il 2-0. Lui così ha tenuto la porta inviolata. Nella difesa 3, come primo giocatore, ho scelto di mettere Cancelo della Juve. Cancelo della Juve, altra ottima prestazione per lui in quel di Udine. Ormai sta diventando un posto fisso nella top 11. Ha giocato un'ottima partita in fase offensiva. Gli ho visto anche fare dei discreti cross e dopo ho fornito l'assist per il gol di Betancourt. Come secondo difensore, invece, ho messo Tonelli della Sampdoria. Tonelli della Samp, anche lui bene nella vittoria della Sampdoria contro l'Atalanta. Attento in fase difensiva dove non ha commesso errori. Dopo ha segnato con un colpo di testa il gol della vittoria dei Doriani. Come terzo difensore, invece, ho messo Radu della Lazio. Radu della Lazio, anche lui attento in fase difensiva. Non ha commesso nessuna sbavatura particolare. E dopo la sua spizzata di testa su un calcio d'angolo è stato l'assist per la rete vincente di Mobile nella gara tra Lazio e Fiorentina. Passando poi al centrocampo, come primo giocatore, ho scelto di mettere Berenguer del Toro. Berenguer che con un tiro da fuori ha deciso la gara tra Torino e Frosinone. Ha segnato il gol decisivo del 3-2. Poi ho messo Nzonzi della Roma che finalmente ha disputato una buona prestazione con la maglia giallorossa. Ha fatto valere la sua fisicità in mezzo al campo e dopo ha aperto le danze con un colpo di testa su punizione a fine del primo tempo. Come terzo centrocampista ho messo Betancourt della Juve. Primo gol con la maglia della Juve dopo un buono scambio con Cansello. Poi al centrocampo ha disputato una buona partita di sostanza, qualità e personalità. Poi quarto di centrocampo che ho scelto è Buonaventura della Milan. Buonaventura anche lui uno dei migliori in campo nella vittoria del Milan contro il Chievo. Solita prestazione da giocatore utile e volenteroso a centrocampo condita poi dal gol del 3-0. L'ultimo centrocampista qua che è Castro del Cagliari. Castro ottima prestazione per lui nella vittoria del Cagliari contro il Chievo. Ha fornito due assist con due cross. Si è mosso parecchio in campo quindi un posto in questa formazione ci sta tutto. E dopo concludiamo con la coppia d'attacco. Una coppia d'attacco tutta argentina. Sto parlando di Icardi e Iguain. Allora ho scelto Icardi perché è stato uno dei protagonisti principali della vittoria dell'Inter contro la Spal perché ha messo a segno una doppietta. Icardi che sta vivendo davvero di un ottimo momento di forma. E dopo ho scelto di mettere Iguain perché anche lui ha segnato due gol nella vittoria del Milan contro il Chievo. Un Iguain che lo sto vedendo in crescita ultimamente. Sta diventando sempre più protagonista con la maglia del Milan. Ho appena detto che ha segnato due gol e dopo si è dimostrato anche utile per la squadra. Concludiamo poi infine col dodicesimo uomo che ho scelto di premiare come Insigne. Insigne che sta vivendo un ottimo momento di forma e sempre più trascinatore del Napoli. Quando è entrato nella partita del Napoli contro il Sassuolo ha avuto veramente un ottimo impatto. È segnato con un tiro a giro da fuori aria il gol del 2-0 che ha chiuso la partita tra Napoli e Sassuolo. Va bene ragazzi questa era la top 11 dell'ultima giornata di Serie A. Fatemi sapere come la pensate. Io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a passare per i vari canali di YouTube Football Project. Trovate tutti in descrizione. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!